Ciao a tutti da Valeria David Goyer adatterà il conte di Monte Cristo Ma prima il video di oggi La villa al mare, vedo che è stata appena messa in vendita La voglio vedere? Ha detto la voglio vedere o la vorrei vedere per favore? A sabato va bene? What's going on? Lei è di sinistra Io se si presentasse cortomaltese alle elezioni lo voterai subito Io ho il colonel barbaro E il colonel è fascista Crede nel futuro Mi ami ancora? Certo che ti amo amore, io ti amo sempre Sono la donna della tua vita? Sì! Lui è di destra Tutto a posto col futuro sindaco? Un coglione Quello consegna alla città gli zingari i centri sociali È un tradizionalista È vero che in Russia i bambini mangiavano i comunisti? Magari è il contrario, no? Ecco, mi sembrava strano che ci avessero le bambini così feroci Secondo te Marco Travaglio venderebbe il mio posto? È presso Finto intelligente, finto comunista e di certo frigida Ma quando li colpirà la passione sarà difficile sapere da che parte stare Siete rimasti tu e alcuni talebani a credere ancora a cose tipo destra e sinistra? Fai molta attenzione, c'è il rischio che quella là ti faccia diventare un essere umano Ti sei innamorata di uno stronzo? E questi libri li hai scritti tutti tutti tu? Eh sì Tutti uguali uguali? Mamma mia, è una passione inquietante Martina È una passione sinistra Non si ripeterà più, chiuso Chiuso Domani voglio provare a essere come una di quelle che piacciono a loro Vai Nina, buona fortuna Allora, economia, libertà o uguaglianza? Libertà Paese emergenti? Bombardare e poi ricostruire? Eroi? Briatore, Chuck Norris, Topolina Cosa mangi se hai fan? Il kebab, vi va? No che non mangi il kebab, tu mangi il sushi, tu mangi il sushi Il kebab è di sinistra e il sushi è di destra Ce la faremo male Destro, sinistro, destro, sinistro Nuovo progetto da regista per David Goyer Sceneggiatore degli ultimi due film di Batman e dell'Uomo d'Acciaio E regista di Il mai nato ed è Invisible Si tratta del nuovo adattamento di Il conte di Monte Cristo Romanzo di Alexandre Dumas La storia verrà trattata con un approccio stilizzato da graphic novel Come già avvenuto recentemente con gli Sherlock Holmes di Guy Ritchie La sceneggiatura è stata scritta da Michael Robert Johnson E la produzione verrà curata dallo studio tedesco Costantin Films e da Jeremy Bolt Recentemente Goyer ha anche creato e scritto la serie tv Da Vinci's Demons Che arriverà in Italia il 22 aprile E per oggi è tutto Ricordatevi di mettere un mi piace sulla nostra pagina Facebook Film is Now Ciao, alla prossima